Amici me che è il TGC, eccoci qua, benvenuti a questa nuova intervista ad una realtà sovicese nata da poco tempo, presente sul territorio da poco tempo. Chi è di chi stiamo parlando lo scoprirete durante questa intervista. Vedete, due persone, anche se poi in realtà parlerà solamente lei. La prima domanda, cioè nome e cognome, la facciamo però ad entrambi. Nome e cognome? Deborah Carrò. Rosa Maria Mercurio. Nome Bar. Bar la Corte. Dove siete? In via Umberto I numero 23 a Sovico. Come ho detto all'inizio dell'intervista, siete una realtà presente da poco tempo su Sovico, da quanto siete? Da luglio dell'anno scorso, precisamente dal 13 luglio, come bar siamo aperti più o meno da metà ottobre. Dal 13 luglio come tabaccheria, specificano, per giusto. Orari e giorni di apertura del bar? Dal lunedì al sabato, dalle 6.30 del mattino alle 19.30 di sera. E da questa settimana volevamo partire facendo orario aperitivo il giovedì e il venerdì, prolungando la chiusura fino alle 9.00. Bene. Il vantaggio di venire da voi, cioè perché un sovicese o un non sovicese dovrebbe scegliere voi come barra? Abbiamo il rapporto qualità-prezzo. Ok. E cosa garantite invece ai vostri clienti una volta che vengono qua da voi? Un sorriso e familiarità. Bene, e questo è importante. Tra le vostre specialità del vostro bar? Il caffè, ovviamente. Tutto quello che riguarda la caffetteria, dal caffè normale a un caffè macchiato, al caffè shakerato. Abbiamo introdotto anche la crema al caffè. Bene. Una frase o una parola anche che rappresenta la vostra mentalità, il vostro spirito o il vostro modo di lavorare? Essere sempre sereni e sorridenti. Bene. Questo è quello che garantite anche ai vostri clienti, quindi mi sembra giusto. Come vedete il bar tra un anno? Di solito la domanda è tra 10 o 15 anni, però dato che siete ancora aperti da poco, insomma siete abbastanza recenti. Vediamo il bar molto più popolato rispetto ad adesso, siccome siamo partiti da poco. Speriamo di fare anche un buon lavoro. Che ingredienti, ultima domanda, che ingredienti metteresti in un panino o in un cocktail ideale, chiamato Sovico? Può subentrata anche lei, eh? No, vabbè. Salame piccante, maionese, fontina e rucola. Perché? Penso sia un'accoppiata abbastanza buona. E secondo te rappresenta Sovico? Sì. Bene. Va bene, allora io mi raccomando, poi venite qua al bar la corte. Ripeti dove? In via Umberto I, numero 23, Sovico. Ok, venite qua, mi raccomando, in tantissimi, a dar sostegno e forza e fiducia a Giustelente, a questa nuova realtà Sovicese. Grazie mille per l'intervista, a presto, ciao.